6 dicembre 1992 Migliaia di estremisti hindù armati di martelli, bastoni e piedi di porco assaltano la grande moschea di Ayodhya, nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh. Non ci limiteremo ad una costruzione simbolica, resteremo finché non comincerà la costruzione del tempio e avrà inizio oggi. Nessuna corte può decidere sui problemi che riguardano la fede, ecco perché cominceremo oggi. Cominceremo nel modo giusto, costruiremo dentro la moschea, la distruggeremo. Il tempio islamico dalle tre cupole è raso al suolo. Per reazione si verificheranno gravissimi scontri in tutto il paese fra la comunità islamica e quella hinduista. Il bilancio, mai verificato con esattezza, sarà di circa 3.000 vittime.